Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come realizzare un liquore cremoso alla nutella fatto in casa. Vediamo insieme. Allora, per prima cosa versate il latte e la panna nel boccale. Successivamente aggiungiamo anche la nutella. E in questo passaggio andrebbe anche lo zucchero che io ahimè mi sono dimenticata. Mettiamo il coperchio e quindi facciamo andare 15 minuti 90 gradi a velocità 4. Trascorso questo tempo ho aggiunto lo zucchero e poi ho mescolato per qualche secondo, sempre a velocità 4. Successivamente si lascia raffreddare ovviamente molto bene e dopo si aggiunge anche la parte alcolica. Quindi l'alcol puro alimentare che comunque si trova anche nei supermercati. Potete fare tantissimi gusti, ad esempio al caffè, al cioccolato, al pistacchio, alla nocciola. Dopo aver fatto questo passaggio dei 20 secondi a velocità 4, trasferite il composto in una bottiglia di vetro. Chiudete con il proprio tappo e lasciate riposare per un giorno. Queste bottiglie sono carinissime anche per fare dei pensierini di Natale. Spero che questa videoricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Un bacio.